Ciao. Il mio sindaco è un momento culminante per i festeggiamenti dei 90 anni di Imperia, Consiglio Comunale Stradinario, poi in serata il concerto a Diato Gavuro con la chitarra di Bazzini. Momenti particolarmente sentiti sia per le prolusioni che per le cittadinanze onorali. Sì, direi che la cerimonia del Consiglio Comunale Stradinario è stata bellissima. Avevo provato forti emozioni, grazie soprattutto a noi, a Carlo Carmi, che ci ha ricordato la sua vita e la sua storia. Nuovi due cittadini in orari tedesico, con due storie diverse, due motivazioni diverse, e ci fanno onore di aver accettato la cittadinanza onorali e di essere, diciamo, tranquillamente con i cittadini.